Un omaggio che viene fatto a lui in questo tempo è proprio il film Vedete, sono uno di voi che con la regia di Ermanno Olmi, che uscirà tra poco nelle sale e mi piacerà vederlo perché la personalità del Cardinale Martini oggi continua ad essere molto eloquente per la sua capacità di intuire le problematiche e di saperle affrontare con la logica del dialogo e mai dello scontro, mai della contrapposizione.